Ciao, sono Dario. Ecco un video di configurazioni per gli utenti di Linux e di Mint in particolare in tutte le edizioni. Sia in un computer datato che in uno potente e recente, alcune impostazioni aggiuntive, senza fare miracoli o andare sul complicato, possono migliorarne ancora un po' le prestazioni. E se hai molta memoria RAM, puoi sfruttarla al meglio limitando l'uso del disco. Se hai installato Linux in un SSD, puoi limitare operazioni non indispensabili di scrittura su disco che determinano un accorciamento del ciclo di vita in un SSD. Anzitutto, in Linux come in Windows, che gli SSD li tortura, è bene non usare utilità di defragmentazione, come invece era necessario nell'era geologica dominata dagli hard disk meccanici a rotazione. Un SSD accede con gli stessi tempi a qualunque settore della propria memoria, rendendo l'eventuale defragmentazione superflua. Anzi, la defragmentazione contribuisce ad un deterioramento prematuro del disco. Se usi Windows, ti consiglio di disattivare la defragmentazione automatica di tutte le unità e partizioni che risiedono su SSD, ma più ancora di mettere alla prova Linux Mint se non lo hai ancora fatto. Segnalo un altro video, cui tengo particolarmente, in cui parlo di SSD. Illustro configurazioni aggiuntive oltre quelle suggerite dalla schermata Primi Passi nella finestra di benvenuto di Linux Mint. Per maggiore performance in Linux Mint è consigliabile limitare l'uso dei file o della partizione swap. Lo swap è un supplemento virtuale alla memoria RAM per parcheggiare dati temporanei nell'hard disk o SSD. Non è però consigliabile disattivarlo del tutto. Linux deve restare in grado di scrivere su disco, altrimenti se esaurisci la memoria RAM potresti sperimentare blocchi e perdite di dati. Il disco prevede tempi di accesso, scrittura e lettura superiori a quelli della memoria RAM. Questa serve a parcheggiare temporaneamente le operazioni che stai compiendo per riprenderle rapidamente, come nel passaggio da un'applicazione aperta all'altra. Gli esperti storceranno la bocca, ma a me piace paragonare la RAM alla superficie della scrivania. Ci tieni le cose che ti servono mentre lavori e che devi recuperare, mettere da parte, riprendere in un attimo. Ma la scrivania ha dimensioni precise. Quando hai troppe cose sopra e non ce ne entrano più, cosa fai? Metti qualche cosa nei cassetti, anche se impieghi più tempo e recuperarle meno immediato. Lo swap funziona più o meno per migliorare questo meccanismo. Indipendentemente da quanto è occupata la scrivania, comincia a riporre informazioni temporanee nei cassetti. Ti fai un'idea della dimensione dello swap in ogni istante aprendo il monitor di sistema alla scheda risorse. La propensione di un sistema Linux a ricorrere allo swap, indipendentemente dall'esaurimento della memoria RAM, è regolata da un valore, chiamato swappiness, swappitudine. Più il valore è basso, più viene utilizzata la memoria RAM prima che Linux cominci ad usare lo swap. La riduzione del valore predefinito consente di ridurre le operazioni di scrittura su disco, migliorando prestazioni generali e reattività. Puoi controllare il valore di swappiness con il file manager, Nemo. Dalla piccola icona nella parte inferiore sinistra di una finestra, se non è attiva, seleziona la modalità Mostra le risorse. Clicca su file system, poi entra nella cartella proc sys vm e apri il file swappiness per leggerne il valore. Dovesti trovarlo a 60 in una scala che va da 0 a 100. Per infostare un valore più basso servono autorità amministrative. Sempre con Nemo parti da file system ed entra nella cartella etc. In uno spazio vuoto della finestra clicca con il pulsante destro e seleziona apri come root. Apri con doppio clic il file sysctl.conf che contiene le variabili generali del sistema. Questo si aprirà nell'editor di testo xed con privilegi elevati. Non toccare nulla ma scorri fino in fondo al file e aggiungi una riga vm.swappiness uguale 20 e poi salva. Al riavvio il nuovo valore sarà utilizzato come riferimento. Potrai ripristinare le impostazioni originali aprendo nuovamente il file sysctl.conf, eliminando la riga aggiunta e riavviando nuovamente. Un altro accorgimento consiste nel disattivare gli effetti grafici dell'ambiente desktop della tua edizione di Linux Mint. Trovi la voce Effetti nel pannello generale delle impostazioni di sistema o nel menu sotto la categoria Preferenze. Disattiva ogni voce e chiudi la finestra. Se usi Linux Mint, ma te intervieni sull'ambiente di compositing, ovvero di gestione delle finestre. Apri il menu e digita Desk. Questo farà apparire le impostazioni del desktop che trovi anche sotto la categoria Preferenze. Clicca per aprirla. Clicca su Finestre e apri il menu a discesa relativo al gestore delle finestre. Seleziona l'opzione Marco più Compton. Questa impegna in maniera minore il chip grafico rispetto all'opzione con compositing e ti consente un piccolo incremento di prestazioni. Comporta anche minore carico nelle operazioni di apertura, trascinamento e ridimensionamento di finestre. Selezionare l'opzione Marco senza alcun compositor è la più leggera in assoluto, ma potrebbe causare un comportamento non fluido e a scatti, specie nella riproduzione di video. Le equivalenti opzioni che utilizzano Metacity non portano alcun beneficio ulteriore. Sono previste solo per garantire massima compatibilità a hardware. Puoi ancora intervenire sulle preferenze delle finestre nell'ambiente Matè. Apri Finestre o digitando nel menu. Se hai mantenuto l'opzione Marco più Compton, verifica che si attivo il segno di spunta sull'opzione Abilita il manager di composizione software. Nella scheda Posizionamento puoi disattivare il ridimensionamento automatico delle finestre ai bordi per non affaticare la scheda grafica. La suite di programmi LibreOffice fa uso della tecnologia Java Runtime Edition per alcune funzionalità avanzate, quasi esclusivamente legate al programma per i database LibreOffice Base. Questa può avere un impatto discreto in computer datati. Disattiviamola, almeno fino a che non sia richiesta da funzioni che ci servono. In questo caso comunque riceveremo un avviso. Apri un programma della suite o l'applicazione Ponte, chiamata solo LibreOffice, e dal menu Strumenti apri la voce Opzioni, poi su Avanzate sotto la voce LibreOffice. Troverai il segno di spunta accanto alla voce Usa un ambiente runtime Java che potrai togliere per disattivare il ricorso a JRE. Conferma con OK. Se non hai aggiunto molte applicazioni all'installazione base, forse non troverai benefici da questo passaggio, ma per rendere più veloce Linux Mint puoi anche intervenire con oculatezza e cognizione di causa sulle applicazioni che vengono avviate automaticamente con il sistema. Trovi applicazioni d'avvio nel menu alla voce Preferenze, oltre che nel pannello generale delle impostazioni di sistema. Ripeto, a certa cosa stai disattivando se non sai bene quale servizio stai limitando. In ogni caso non ti consiglio di disattivare alcuna delle opzioni che anche io lascio attive nella schermata. Disattiva il supporto per schede video Nvidia solo se non ne hai una. Nell'edizione Cinnamon di Linux Mint le Applet sono in soldoni le icone interattive che trovi nel pannello, la barra inferiore, sia quelle sul lato sinistro che aprono il menu o programmi d'uso frequente, sia quelle più piccole con informazioni di sistema che trovi sul lato destro. Avvia dal menu l'applicazione Applet. Ma puoi disattivarne qualcuna tra quelle non essenziali per te, intervenendo con il segno meno dopo averla selezionata. Non tutte consentono la rimozione, e ti consiglio di lasciare attive quelle di stato ex apps, quelle relative alle notifiche e ovviamente il menu di Cinnamon. Ma puoi ad esempio rimuovere quelle con le informazioni audio aggiuntive, le opzioni di risparmio energetico in un PC fisso o sempre connesso alla rete elettrica, quelle sulle stampanti, sulla modifica del layout di tastiera e di accesso rapido alle nuità rimovibili o addirittura orologio e calendario. Potrai ottenere un piccolo beneficio in termini di RAM liberata. O più significativo se ne è aggiunte più di quelle preattivate. Anche i Desklet sono sempre stati un segno distintivo di Cinnamon, anche se forse puoi trovarne alcuni un po' trascurati negli aggiornamenti alle ultime versioni di Mint. Non esagerare in ogni caso se cerchi migliori prestazioni nella tua installazione di Linux Mint. Con tanta o poca RAM con hard disk meccanico o SSD, alcune impostazioni di Firefox possono limitare le azioni di scrittura su disco, migliorando le prestazioni generali. Firefox scrive e aggiorna su disco la cronologia di navigazione durante le attività. Per limitare il numero di accessi al disco, intervieni disabilitandole. In questo modo i dati saranno mantenuti nella memoria RAM mentre navighi. Digita about nella barra dell'indirizzo. Non fai danni finché segui le mie indicazioni, quindi letto l'avviso puoi accettare il rischio e proseguire. Digita browser.cache.disc.enable per accedere alla modifica del valore. Questo, per impostazione predefinita, salva di continuo su disco ogni pagina che visiti. Disattiva l'opzione. Intervieni sul parametro true cliccando sulle frecce a lato. Il parametro viene impostato su false e appare un bottone per ripristinare lo stato precedente. Per completare la configurazione, ancora nella scheda about 2.config, cerca il parametro browser.cache.memory.enable e impostalo su true. Alcuni consigliano anche di impostare un valore massimo di RAM intervenendo sul parametro browser.cache.memory.capacity. Normalmente questo sarà impostato su –1, ovvero quanta ne serve. Io però penso che non sia il caso di limitare la RAM se poi anche la scrittura su disco è inibita o si potrebbero verificare anomalie crash. Chiudi Firefox e riavvialo perché la configurazione venga letta di nuovo. Casomai, se sperimenti rallentamenti o anomalie, puoi verificare l'impiego di RAM digitando nella barra dell'indirizzo di Firefox about 2.cache. Oppure, con il monitor di sistema che trovi sotto amministrazione, alla scheda risorse accerta che la RAM non sia esaurita e sotto processi che non sia causa di Firefox. Per un sollievo immediato digita about 2.memory, clicca su minimize memory e verifica se la situazione migliora. Altrimenti ripristina i parametri allo stato iniziale perché evidentemente nella tua configurazione la cura è peggiore del male. Firefox ripristina pagine e schede aperte durante una sessione nel caso venga chiuso inaspettatamente. Interessante, ma il dato viene reiscritto su disco ogni 15 secondi. Se hai un SSD, interveni sul timer di tale funzione e gli allungherai la vita. Digita about 2.config nella barra dell'indirizzo di Firefox, conferma l'accesso alla configurazione e poi digita browser.sessionstore.interval nel campo di ricerca. Lo troverai espresso in 1000 secondi con 15.000. Clicca l'icona di modifica, aggiungi uno zero e conferma per ridurre di 10 volte le operazioni di scrittura su disco. Anche se la situazione viene aggiornata ogni due minuti e mezzo. Se intervieni più pesantemente, puoi ottenere in pratica che non lo faccia mai. Firefox ricorre ad un database per mantenere impostazioni relative ad ogni profilo, come preferiti, cronologia, numero e stato di plugin ed estensioni. Tale database però via via che usi Firefox va incontro a perdite di prestazioni e dispersione di informazioni che ne fanno lievitare la dimensione. Questo può influire anche significativamente sulla reattività del browser. Saltuariamente conviene verificare l'integrità del database SQLite Places e deframmentarlo. Non serve alcuna estensione, basta digitare nella barra dell'indirizzo About e scorrere quasi fino alla fine della pagina per trovare una sezione informativa dal titolo appunto Database Places. Oppure con Ctrl più F attivi la ricerca nella pagina e digiti Database Places per trovarla subito. Clicca Verifica integrità e il database verrà controllato e ottimizzato. Ti verrà poi fornito un resoconto tecnico delle operazioni effettuate e delle informazioni trovate sulla sua dimensione e sulla salute. Anche in Google Chrome si può intervenire per rimitare il ricorso alla rete e ridurre le operazioni di scrittura su disco, utile specie se hai un SSD. Digita Chrome//settings//cookies nella barra di Chrome. Ci arrivi anche da Impostazioni, Privacy e Sicurezza, Cookie e altri dati dei siti. L'opzione che precarica pagine e risorse web collegate a quella che stai visitando si trova a circa metà pagina e consiglio di disattivarla. Se usi Linux Mint in un PC datato o poco potente, per ridurre ulteriormente il carico sul sistema puoi disattivare la creazione e visualizzazione di anteprime per i file multimediali, accontentandoti di icone generiche per tipo di file. Per Linux Mint Cinnamon e LMDE apri il file manager Nemo. Dal menu Preferenze vai su Anteprime e intervieni nell'elenco a discesa per disattivarle o imposta un limite per la dimensione file, così da averne almeno per i PDF se vuoi. Anche le opzioni sui suggerimenti, se disattivate tutte, possono ulteriormente alleggerire il carico sul sistema. Per l'edizione Matea ed il suo file manager Kaha entra sempre su Preferenze e Anteprime, per trovare le impostazioni disattivabili. Anche nelle preferenze di Tuner, File Manager dell'ambiente Xfce, puoi disattivare la creazione di anteprime multimediali. Abbiamo visto una serie di accorgimenti per rendere più veloce Linux Mint e ottenere un pizzico di prestazioni in più. Quelle relative all'SSD e lo Swap sono valide per tutti gli utenti di Linux, ma la maggior parte sono rivolte all'ottimizzazione di Linux Mint nelle sue varie edizioni. Nessuna soluzione miracolosa, ma spero possano esserti utili, specie se stai cercando di regalare l'ultimo slancio ad un vecchio computer. Grazie per il tuo tempo e se vuoi ci vediamo prossimamente. Ciao! Grazie per la visione!